il portafoglio penny stock true long strong cioè di un portafoglio fatto di penny stock cioè di titoli che costano un dollaro o qualche centesimo in più ma soprattutto costano meno di un dollaro e sta andando molto bene su 58 giorni ha portato a casa 954 954 dollari di profitto che su base l fa il 47 più del 47 per cento e questo tenendo conto ovviamente delle commissioni e di una contingency del 10 per cento cioè dire di un del fatto che i profitti sono diminuiti vengono diminuiti del 10 per cento e le perdite vengono aumentate del 10 per cento per tenere conto del diciamo dei quali dei problemi che possono sorgere nel trading con denaro vero quindi questo portafoglio sta andando veramente molto bene fra l'altro gli investimenti sono bassi perché sono tutti i titoli da ripeto dal mediamente da un dollaro buon lavoro